ben trovati a tutti sul canale nella ricetta di oggi prepareremo il salame dolce di cioccolato vediamo gli ingredienti di cui avremo bisogno 160 grammi di biscotti secchi 50 grammi di zucchero a velo un cucchiaio di cacao amaro 150 grammi di burro un cucchiaio di caffè 160 grammi di cioccolato fondente e 100 grammi di cioccolato al latte con nocciole intere iniziamo con lo sciogliere il cioccolato a bagnomaria una volta fatto lasciamolo raffreddare ora tritiamo i biscotti grossolanamente ammorbidiamo il burro a temperatura ambiente con lo zucchero a velo e adesso mano a mano aggiungiamo tutto il resto degli ingredienti mescolando finché il composto sarà ben omogeneo iniziamo 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 non rimane che compattare e dare una forma rotonda e allungata mettiamolo in frigorifero tre ore saranno sufficienti a piacere un po di zucchero a velo il mio consiglio è di lasciar passare 30 minuti le fette si taglieranno con maggiore facilità buono goloso e anche divertente da preparare vi auguro un buon natale e di trascorrere le feste in serenità con le persone a cui volete più bene a presto con altre ricette interessanti